Il Teatro d'Use è Bologna, il Teatro d'Use fa parte della mia vita e poi tornare dopo due anni. Avevo fatto una serie di concerti qua ed erano stati interrotti dalla pandemia, quindi stasera sarà molto emozionante. Sì, quante serate così. Dico sì, allora dai, andiamo a Milano, la facciamola, incidiamo, dai. Poi con Lorenzo abbiamo cominciato a frequentarci ed è nata, apri tutte le porte. E lì c'è venuta l'idea di mandare la canzone ad Amadeus sperando che la accettasse per la gara. Quando ci ha detto di sì, che la canzone era stata ammessa, eravamo felicissimi, è stato bellissimo. E poi è bello tornare in gara a San Reino. Comentata la lalagria, devo ricordarmi. Con bisogno della lalegria, non dimenticamelo. La lalagra, la lalagra, la la lalagra. La lalagra, la lalagra, la lalagra, la lalagra. bear.